Raviolo l'arletta, Caicedo al 95esimo, pareggia la Lazio con la p... ...da Perutta, inizio qua ci vanno a fare una sfonda, Caicedo mi ha radicolato e fa la caresta in Caicedo! Da terra, da terra al 98, la Lazio col cuore, con la gritta, con Caicedo, fa 4 a 3, il capo si muove in taglia, la ribaltata... ...dentro Caicedo! Ancora Caicedo, vola in cielo e la Lazio vince all'ultimo respiro, sempre lui il talismano di Simone Inzaghi, delirio bianco celeste in Sardegna... ...Cesni, Lanzari, Cesni, palla che resta di Caicedo! Eccolo qui, il gol del 3 a 1, entra in segna, Felipe Caicedo via la maglia, può esplodere l'Olimpico, il punto esclamativo su una rimonta... ...attenzione alla Lazio, possibilità Caicedo! Si gira col destro, e firma il 2 a 1 per la Lazio, al 91esimo, tutta la macchina in campo per Felipe Caicedo! Sul destro vuole calciare, non riesce, va dentro, da Caicedo che la lascia, immobile da terra, poi Caicedo! 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 E avanti la Lazio! La rimonta e si compie, all'inizio del recupero, Caicedo! Con Milinkovic-Savic, poi il gol di Caicedo! S ㅎㅎ Grazie a tutti Grazie a tutti